Quattordicesima giornata del Girone C di Lega Pro in archivio. Partiamo dalla capolista Bari che ha vinto 2-0 contro la Vibonese. Il vantaggio dei Galletti grazie al gol di Ruben Botta. Il Bari chiude il conto contro la Vibonese con il calcio di rigore di Antenucci al 95esimo. Per il giocatore molisano è il quarto timbro in campionato. Alle spalle del Bari a meno 4 il Palermo ed il Monopoli. Partiamo dai Pugliesi 2-0 al Taranto. Decisiva la doppietta di Grandolfo. Prima da opportunista nel primo tempo poi con un gran colpo di testa al 50esimo della ripresa. Il Palermo vince contro il Potenza 2-0 a segno l'ex Campobasso Fella mentre il raddoppio è realizzato da Silipo con un gran sinistro che si va a spegnere sotto la traversa. Nel posticipo di ieri sera la Turris ha superato 1-0 il Catanzaro Campani che salgono a 25 in classifica mentre il Catanzaro resta a 23. Decisivo il gran gol di Luca Giannone da vedere e rivedere. Nono centro stagionale per l'attaccante della Turris. Un gol importantissimo di Canutè permette all'Avellino di espugnare il difficile campo di Messina Avellino che vince 1-0 e sale a 23 in classifica in piena zona playoff. Picerno Francavilla termina 0-1. Importantissimo successo degli ospiti che decidono la gara grazie al colpo di testa di Caporale. Francavilla che sale a 23 punti in classifica. Picerno che resta fermo a 16 come il Campobasso. Mentre bellissima la partita al Massimino tra Catania e Foggia. Avanti gli Etnei con il gol del solito Russini. Sesto centro in stagione. Il pareggio dei Diavoli Rossi con Gallo che ribadisce in rete una corta respinta del portiere del Catania. Il gol partita arriva al 94esimo. È un calcio di rigore di Ferrante che scivola ma riesce comunque a realizzare il 2-1 e il suo settimo centro stagionale. Non vanno oltre il pareggio Juve Stabbia e Monterosi. La gara termina 1-1. Avanti i Laziali con Buglio al dodicesimo del primo tempo. Il pareggio della Juve Stabbia alla mezz'ora con Bentivegna. Infine gran colpaccio della Fidelisandria che spugna con merito il campo di Pagani. Decisiva la rete di Gaeta che riceve un assist dalla sinistra. Fidelisandria che sale a 12 punti. In coda la classifica resta la Vibonese con 9. Grazie. Grazie.